Claudio Giordano, uno come tanti altri, uno perché è una ragazza, no, è un'emozione. È un'emozione che ha avuto e ha messo in musica, è una come tante altre emozioni, lui l'ha scritta originariamente per due violini e pianoforte, invece stasera viene eseguita per flauto, violino e pianoforte, Claudio Giordano, Roberta e Gialdi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.